Siamo giunti al termine della terza prova della serie A2 Ancora un applauso a queste ginnaste che hanno gareggiato e tra qualche secondo vi darò anche la classifica Partiamo dal terzo posto, i punti sono 90 e 900 Il terzo posto va alla cimilica 96, Fornini Secondo posto, punti 94 e 400 per la ginnastica moderna, Legnano E ora dal primo posto della terza giornata, i punti sono 95 e 500 E l'opera oggi va, ginnastica Ponte Vecchio A4 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 A5 curando